Proponiamo qui al Salone Internazionale del Mobile quattro nuove collezioni, quattro concept che rispecchiano quella che è l'identità dell'azienda, tutti gli elementi che stanno all'interno dell'ambiente bagno, coordinati naturalmente dal materiale che è il filo conduttore per tutti gli elementi, un materiale tecnico-tecnologico che abbiamo sposato con dei materiali naturali per scaldare, per dar vita alle collezioni. Pergomomic nasce da un'idea di avere tutto a portata di mano, una fluidità di movimenti che permettono da sdraiati dalla vasca di avere l'erogazione dell'acqua, la doccetta, l'apertura dei comandi, tutti quanti in modo rilassato. Questo sistema di rubinetteria incorporata in questo abbassamento della vasca permette il posizionamento della stessa in qualsiasi punto della stanza, in quanto i rubinetti sono compresi nell'insito della vasca. Il corio è un materiale che si presta perfettamente a questo genere di soluzioni. Tutto questo sarebbe stato impossibile con materiali ceramici, dove la possibilità di forare in un secondo tempo è sempre molto complicata. Il progetto UARP esprime il linguaggio classico e le forme contemporanee. L'ispirazione della parete, che è l'elemento generatore di tutto il progetto, prende spunto dalle diamantature dei rivestimenti lapide dei palazzi ordinascimentali e da questo paramento esce l'elemento aggettante della vasca, del lavabo, del mobile contenitore o dello specchio. Questi elementi flettono e hanno una torsione e questo è il modo per esprimere la contemporaneità. Tutto il progetto si basa sul calore, sulla bellezza del materiale in Corian ed esprime l'ambivalenza del linguaggio del Corian, sia la forma tagliente dove la luce è sfaccettata, sia al tempo stesso la morbidezza che il materiale offre. Il progetto UARP nasce dalla volontà di rileggere in chiave contemporanea l'antico pozzo. In particolare il lavabo da terra esprime questo concetto in maniera più forte proprio per il suo bacino che all'interno è nero e quindi esprime la profondità del pozzo. Gli altri elementi della collezione si sono ispirati alle antiche tinozze e ai mastelli, le cui forme morbide e pure ci hanno invitato a rilassanti immersioni. Il progetto FONTE nasce dall'osservazione della realtà quotidiana e nasce anche dalla mia passione per la visione della tradizione giapponese del bagno e dell'acqua. Il bagno è visto come un luogo dove prendersi cura attivamente di sé, dove anche condividere e incontrarsi con altri elementi della famiglia. Il progetto si articola attraverso oggetti funzionali, multifunzionali, che sono trattati con un linguaggio pulito, morbido e diciamo anche un po' archetico. L'elemento conduttore è appunto il materiale unico che è il Corian e il Coracryl. In realtà ci dà la possibilità di creare oggetti e situazioni che coroperano zone gusto completamente diverse proprio per andare incontro alle esigenze di un mercato internazionale. Ci rivolgiamo alla nostra clientela cercando di trasmettere non solo il nostro gusto, il nostro credo, ma anche cercando di trasmettere quelle che sono le sensazioni e la cultura del nostro paese. Grazie. Grazie.